Essere una studentessa di 23 anni, dover scegliere tra il diritto allo studio e quello alla salute, vedersi negata alla possibilità di una piccola telecamera accesa che potrebbe fare la differenza. Si potrebbe riassumere così la storia di Chiara Comella, Nissena, che sin da quando aveva 12 anni convive con 13 patologie rare a causa delle quali ha affrontato più di 30 interventi chirurgici. Oggi Chiara è iscritta al quinto anno dell'Università Romena di Galatiduranea di Gios, che ad Enna ha una delle sue sedi distaccate nella facoltà di medicina del Fondo Proserpina, che gestisce i servizi dell'Università Romena. Li abbiamo contattati, ma non abbiamo ricevuto nessun riscontro. Tutto è partito da una lettera di qualche settimana fa, ma non è arrivato l'ok per accendere quella telecamera. Purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta, non è cambiato niente. Anche a livello politico non ho sentito nessuno. Non vado il motivo per cui non si può accendere una telecamera, perché si parla tanto il giorno d'oggi di uguaglianza, ma forse ancora non si capisce fino in fondo. Quello che vorrebbe Chiara è semplicemente vedere la possibilità, anche quest'anno, di poter fare lezioni in DAD come al terzo anno e al quarto anno, e per questo si è affidata ad un legale. Io ho richiesto di fare le lezioni online in questo momento, perché aspetto un intervento in America. non posso in questo momento frequentare ogni giorno le lezioni, perché devo fare diverse terapie infusionali, la nutrizione, e non riesco ogni giorno ad andare di presenza. Tra l'altro in questo momento le lezioni sono tutte frontali, quindi non vedo il motivo per cui non posso accendere una telecamera. Io non ho chiesto di non fare tiroginio, che appena starò meglio, lo farò chi come me avesse il diritto di proseguire i propri studi, anche nei momenti in cui si sta peggio. Vorrei fare capire che oltre alla disabilità siamo persone che abbiamo gli stessi diritti, abbiamo il diritto di sognare il nostro futuro. Attraverso la sua associazione ascolta anche molti ragazzi e ragazze che le raccontano di storie come la sua. Sì, da quando è uscita un po' questa mia notizia, questa mia denuncia, tantissime ragazze e ragazzi mi hanno contattato che purtroppo si sono dovute a chi ritirare, a chi si è dovuto fermare nei propri studi, perché magari non hanno avuto il coraggio di denunciare quello che gli stava accadendo come me. Vorrei che avessimo gli stessi diritti degli altri. Oggi Chiara, per dover seguire le lezioni, è costretta a scegliere tra il piano terapeutico e la presenza in aula, ma continua a coltivare il sogno di diventare medico.